Saranno attività che potranno svolgere gratuitamente dal mese di febbraio fino alla loro permanenza in città, dando così un contributo alla manutenzione e al decoro urbano. È la decisione intrapresa dal Comune sollecitato dal Prefetto Luigi Pizzi, che questa mattina ha incontrato il Sindaco Massimo Seri per discutere diversi temi, dalla sicurezza ai profughi alloggiati all'Hotel Plaza. Per poter rendere possibili i lavori socialmente utili, sarà fondamentale la collaborazione con le associazioni locali attraverso un forum istituito poche settimane fa e le quali dovranno poi affidare ai ragazzi i vari incarichi. Insieme a loro dovremmo preoccuparci di una piccola formazione per fare in modo che siano abili e capaci e siano in sicurezza, quindi con una forma anche di assicurazione. E quindi questo è una delle ragioni del coinvolgimento delle associazioni del forum. Alcuni già, come mi diceva la referente dei profughi qui a Fano, stanno facendo i corsi di lingua italiana e altri già stanno frequentando anche dei gruppi della diocesi. L'assessore durante la conferenza ha precisato che stanno mettendo in campo tutte le soluzioni che possano evitare ogni forma di allarmismo, innescato invece nei giorni scorsi da diversi politici e non solo. Danna, così come affermato anche da Seri, è l'unico che si è distinto proponendo invece azioni concrete, cioè quella di coinvolgere i profughi ospitati nella cura della città. Profughi appunto e non clandestini. E questo, conferma la Barnisi, risulta dal censimento che viene effettuato al momento dello sbarco. Inoltre, assicurato che tutti i ragazzi sono stati controllati dal distretto sanitario. E il direttore del servizio igiene e sanità pubblica, Massimo Agostini, ci ha dato notizia dell'esito degli esami eseguiti finora, ma d'altra parte assicura che verranno costantemente monitorati anche nelle prossime settimane. Ma tutti quelli che sono arrivati da noi, tutti sono stati sistematicamente controllati. In alcuni casi abbiamo fatto anche degli approfondimenti diagnostici, in particolare in una quindicina di questi ragazzi, per verificare eventuali contatti avuti durante il percorso, il tragitto. E attualmente sono tutti negativi, per cui sono sistematicamente sotto controllo e sotto monitoraggio. Sull'argomento oggi è intervenuto anche il presidente di Benecomune, Carlo De Marchi, il quale ha ricordato che i soldi che arrivano dall'Europa per i rifugiati non vengono dati direttamente a loro, ma alle cooperative e alle associazioni che si fanno carico dell'accoglienza. Secondo Giovannelli e Piccino della CIS di Pesero Urbino, invece, la prossima stagione turistica non può essere messa in ginocchio dal loro arrivo, come lamentato da qualcuno. Infatti, dicono, più che gridare alla paura dello straniero, occorre ripensare ad un nuovo progetto di sviluppo turistico, riqualificando la struttura ricettiva alberghiera o ripensando all'intero settore del trasporto. E sulla loro ubicazione, invece, Seri ha chiesto a Pizzi di poter essere coinvolto in futuro prima di prendere una decisione definitiva. Ma oltre a questo ha chiesto anche la possibilità di convocare il Comitato di Sicurezza per combattere il problema dell'ordine pubblico.